Siamo in compagnia di Veronica Caretta, portiere dell'Italia. Hai fatti conti di quante parate hai fatte nella partita contro la Spagna, persa 3-1 ma che ha portato l'Italia al secondo posto nel girone A dei campionati europei? No, sicuramente no. L'obiettivo di oggi era battere i pugni sopra il tavolo e dire qui ci siamo anche noi, dimostrare che siamo una nazionale che può stare lì e che non ci si può sottovalutare perché noi ci siamo e noi ce la giochiamo e penso che la partita di oggi ne sia stata la dimostrazione e sicuramente vogliamo continuare su questa linea e pensare una partita alla volta, domani ci sono i quarti di finale, adesso tocca riposare, riguardare la partita di oggi, capire dove sono stati gli errori e prepararsi per domani. Ecco Veronica, cosa ti è piaciuto in particolare dell'Italia? Ho chiesto a Massimo Giudice se questa partita fosse in linea o un passo in avanti rispetto a quella del Portogallo e il tecnico mi ha risposto che fossero due partite differenti, però io ritengo che ci sia un denominatore comune, cioè la vostra forza a livello mentale. In tutte e due le partite voi avete saputo reggere a livello mentale a due squadre che hanno attaccato molto ma voi siete rimasti in partita sempre. Sì, sicuramente è una delle nostre qualità, ma questo l'abbiamo dimostrato già da tempo, è saper soffrire, saper stare lì e anche se siamo sotto con il risultato non importa, che ce la giochiamo fino alla fine letteralmente. Questa è la cosa che ci portiamo dalla partita di oggi, poi sicuramente una grande difesa perché le ragazze sono state incredibili contro delle giocatrici con un'esperienza molto superiore alla nostra alla fine dei conti. Quanto c'è stato di tuo in questa partita, in questa prestazione dell'Italia e quanto è stato l'aiuto proprio delle tue compagnie di squadra per proteggere la tua porta? Beh, loro sicuramente mi hanno messa nelle migliori condizioni per poter fare una buona prestazione. Io ho cercato di metterci il cuore, di stare lì e di aiutare, di tenerle su. Oggi, rispetto alle altre partite, non ho parlato tanto perché di fiato o tenevo l'ossigeno per le gambe o lo tenevo per parlare. Oggi sono stata un po' più silenziosa, però sicuramente ci siamo riusciti a capire lo stesso e siamo stati lì. L'hai detto nella prima risposta, dobbiamo guardare avanti, domani ci sono i quarti. Che partita ti aspetti con l'Inghilterra? Sicuramente non è una partita facile, cioè sarebbe un errore andare lì e pensare di vincere facilmente perché è una squadra guerrita, è una squadra che vuole vincere e anche se oggi abbiamo fatto una buona partita non importa più. Era solo per la qualificazione e va bene, siamo andate bene, però adesso viene la parte bella, quella è la parte importante e non possiamo perdersi.